Cari amici di Motorbox, siamo qui a Monaco con Davide Valsecchi per parlarvi di una iniziativa che Davide porta avanti in questi giorni negli autodromi del nord Italia e non solo e che si chiama GT Experience No, non si chiama Cari amici di Motorbox, siamo qui a Monaco con Davide Valsecchi per parlare di una sua iniziativa che si chiama Valsecchi GT Experience e... Cari amici di Motorbox, siamo qui a Monaco con Davide Valsecchi per parlare di una sua iniziativa bellissima che si chiama Valsecchi GP Experience Hai detto bene Sono contentissimo, si è bellissimo, sai perché? Perché facciamo divertire la gente, gli appassionati di auto, la gente come noi di Formula 1 e non solo ad un prezzo stracciato li facciamo fare un'esperienza in pista in stile Formula 1 quando il tendo è stracciato, questo è 100 euro, però dico ad un prezzo impossibile facciamo una cosa bella e alla fine abbiamo visto che è molto divertente le tappe che abbiamo fatto fino adesso sono state dovute al nord Italia adesso pian piano ci spostiamo giù verso il sud vi dico che ne vale la pena, è bello avete già fatto una tappa adria, una francia corta sì e la prossima sarà a Cermesina sì, il 18-19 di giugno sarai da solo o sarai accompagnato? no, ci sarà Macio Melandri ma anche la nostra presentatrice, che si chiama Federica Masolina, farà un salto adesso sta decidendo a essere prima, alla seconda giornata perciò ci divertiremo ok, entriamo un attimo nel dettaglio che cosa si fa durante le giornate del Balzecchi GP Experience? un'esperienza in pista in stile Formula 1 per appassionati facciamo un briefing di 20 minuti dove facciamo fissare i nostri amici sul fatto che devono imparare come andare forte in macchina poi, visto che diamo tante informazioni, non è semplice ricordarsene tutte siamo obbligati a farli provare al simulatore per fargli memorizzare la pista e fargli memorizzare un po' i consigli che gli diamo sulle traiettorie e poi c'è un preparatore atletico di Formula 1 che si chiama Andreino, ma non voglio che ci chiamiamo che sarà vero, comunque spoiler, spesso la tagliamo no, no, lui viene e sì, ci dà due o tre indirizzi ci fa fare un'attivazione mentale dove ci fa sbagliare un po' i riflessi e poi niente, c'è la sessione in pista i nostri amici guideranno e lì sono fatti loro chi è bravo è bravo, chi non è un po' meno, a me si divertirà che macchina guideranno? eh, guideranno una BMW M2 Competition gentilmente offerta da BMW che è una macchina che è una bomba perché è leggera, 410 cavalli è l'uova di stecca ha un cambio che è rapidissimo e ha dei freni fatti apposta per questo tipo di cose perciò la macchina è molto forte un consiglio, venite via col freno perché il problema che abbiamo avuto nelle prime tappe la macchina frea davvero tanto e ogni tanto lasciano un po' troppo il freno mentre noi vogliamo che siano un pochino più brave coraggiosi ho capito dopo Cervesina ci sarà una tappa a Maggione la Cervesina il 18-19 giugno a Maggione il 2-3 luglio e a Pinetto il 3-4 settembre con altri ospiti che se volete scoprire potete trovare sul tuo sito internet ah sì, sì, sì vasacchi.gpspines.pmw.com direi che è tutto facciamo un saluto agli amici di motorbox.com ci vediamo in pista ciao 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 ciao